Direttore Fabio Lupo, innanzitutto benvenuto a Teramo in maniera ufficiale. Questa mattina a conferenza stampa di presentazione possiamo dire che il filo conduttore è stata la parola motivazione? Sì, direi di sì. Motivazione per quello che riguarda soprattutto il campo, ma anche fuori per quanto mi riguarda. Fuori dal campo un'altra parola fondamentale sarà condivisione, perché questo è l'Italia, il processo, il percorso che noi ci siamo indicati con il Presidente e che credo che in genere produca sempre grandi risultati. Il suo compito sarà far ripartire la squadra partendo da una base che c'è già e a cui lei che valutazione dà? La valutazione non la dà Fabio Lupo, la valutazione la danno gli ultimi anni. Questo è un gruppo che ha costruito e ha fatto ottimi campionati, secondo me ha fatto uno straordinario campionato anche l'anno scorso, d'altra mille difficoltà anche psicologiche, non solo tecniche, quindi è un gruppo in cui credo molto, però sono loro i primi che devono credere in se stessi, se vogliono rimanere a teramo. Il valore tecnico è fuori discussione, bisogna capire qual è la loro spinta motivazionale che sarà, come abbiamo detto prima, fondamentale. Lei e anche il non allenatore Zauli, il Presidente Campitella, ha detto che mi hanno riacceso una scintilla che probabilmente si era subita al 50% del merito. Sì, mi fa piacere, ma è una scintilla che per quanto mi riguarda, ma credo il potere di la stessa cosa per il mister, è una scintilla che abbiamo dentro di noi, abbiamo grandi motivazioni noi per primi e quindi la trasmettiamo agli altri. Siamo felici che il Presidente abbia colto in noi questo entusiasmo e che abbia riacceso il suo entusiasmo, perché è tutta il teramo, noi abbiamo bisogno dell'entusiasmo del Presidente. Zauli, perché? Voi avete detto che abbiamo fatto una valutazione tecnica generale, poi però Zauli aveva qualcosa in più. Sì, ci ha trasmesso quel qualcosa in più, sicuramente rispetto a, per esempio, anche a Colucci, che si rappresentano molto bene, forse ha avuto nel suo curriculum il percorso, un percorso in questo campionato, quindi un pizzico di esperienza in più. Però, ripeto, quello che è stato fondamentale, perché alla fine erano profili tutti di uguale spessore, anche lo stesso Peo, lo stesso D'Angelo, con il quale abbiamo parlato, altri profili, sicuramente erano profili tutti di spessore. Ad un certo punto, però, come deve capitare nella vita è la sensazione e Lamberto ci ha dato, dalle sue grandi motivazioni, grandissime sensazioni. Buon lavoro. Grazie.